Il tempo strinceva, stava per cominciare il grande giorno del sabato, la festa di Pasqua, in cui non si poteva compiere alcun lavoro, né tantomeno seppellire un morto. Venne dunque a proposito la generosità di Giuseppe da Rimatega, col mettere a disposizione della madre di Gesù la propria tompa nuova, scavata nella roccia, non lontana dal luogo del supplizio. Anche gli ebrei, come tutti i popoli, erano attenti nella sepoltura del defunto. Prima di seppellirlo, il corpo veniva lavato e riempito di profumi, di unquenti. Veniva messo il sudario sulla testa, poi veniva avvolto nel lenzuolo e poi legato con le bende. Era tutto un procedimento rituale, sacro, che veniva compiuto dai parenti, dalle persone più strette al defunto e veniva compiuto con gioia, con serenità e con le lacrime agli occhi. E noi possiamo aspettarci che lo sguardo della Madonna si posi riconoscente su di noi per la cura che abbiamo del corpo adorabile di Gesù nel Santissimo Salramento? Con quale riverenza e amore lo trattiamo? Qual è il nostro contegno interiore ed esteriore nel partecipare alla celebrazione della Messa, nell'amministrare e nel ricevere i sacramenti nella nostra salvezza? Il decoro della casa di Dio, curare i vasi sagri, i paramenti delle tovaglie, dei corporali, dei purificatori? Pensiamo alla cura che ne aveva il nostro Serafico Padre San Francesco, animata da una fede viva in Gesù e da un amore ardente per Lui. Quando nelle sue peregrinazioni apostoliche si impatteva in una chiesa trascurata, dava di mano alla scopa, la puliva con umiltà e devozione, ne ornava l'altare e questo aveva olio per la lambada. Ricordiamo la sua insistente raccomandazione. Vi scongiure tutti, o fratelli miei, baciandovi i piedi e con tutta l'amore di cui sono capace, che prestiate per quanto potete tutti il rispetto e l'adorazione al Santissimo Corpo e Sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nel quale tutte le cose sono in cielo e in terra sono state purificate e riconciliate a Dio Onnipotente. Non dimentichiamo poi che il corporale mondissimo e candidissimo sul quale mettiamo il corpo del Signore Gesù deve essere un simbolo della purezza del nostro cuore, nel quale con la Santa Comunione riceviamo lo stesso corpo sagittissimo di Gesù. Quale preparazione premettiamo noi alla nostra Santa Comunione, con quale premura ci sforziamo di rendere pura e monta per Gesù la nostra anima. Queste sono le parole del nostro Serafico San Francesco. Terminato l'unzione e la preparazione della Salma, un piccolo e mesto corteo funebre si incammina verso il luogo della sepoltura. Giuseppe d'Arrimateo, Nicodema e l'Apostolo Giovanni portano la sagra spoglia e la madre e le piedonne seguono il corteo. A noi non rimane altro che chiuderci nel nostro silenzio, meditare la passione di Gesù, la sofferenza della nostra madre e gridare, oh Cristo, nell'ora del mio passaggio fa che per mano della tua madre io giunca alla meta gloriosa. Quando la morte dissolve il mio corpo, aprimi, Signore, la porta del cielo. Accoglimi nel tuo regno di gloria. Amen. Grazie a tutti.